Ricevute a Palazzo Lascaris il 15 giugno due delegazioni istituzionali provenienti dall'Albania. Il vicepresidente dell'Assemblea, Roberto Boniperti, ha ricevuto il presidente della Camera di Commercio di Tirana, Nicolin Iaca. Nel pomeriggio il presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo, ha ricevuto una delegazione di Confindustria Albania in visita in Italia per un ciclo di appuntamenti istituzionali. All'incontro erano presenti Enno Bozdo, viceministro dell'Economia dell'Albania, Ayredin Fratari e Ajim Buffi, presidente e direttore generale di Confindustria.